Io non sono bravo come Fausto a parlare, anzi veramente vorrei copiare le sue parole di espressione perché sono commoventi. Io veramente sono stato felice di essere stato il vostro presidente anche se non mi sono fatto vivo molto, però ho assistito l'ultima vostra partita che secondo me è stata una vittoria. Io vedo il vostro entusiasmo che è un qualche cosa che mi contagia, io come ho detto Fausto spero di trovarvi tutte il prossimo anno al raduno per il prossimo campionato e io veramente vi auguro intanto buone vacanze e vi auguro di essere serene, di essere allegri come siete state questa sera. Grazie di tutto e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.